Probabilmente la più grande opera infrastrutturale in programma per quello che riguarda la giunta a Cuaroli della Regione Marche in questo mandato è risolvere il problema dell'incompiuta della Galleria della Guinza. Si punta a risolverlo con un programma ora stilato che ha una gara d'appalto in corso, che ha un crono programma di inizio cantiere entro 2025 e che però ha ripreso un vecchio progetto, quello dell'ingegnere Alberto Paccapello che 40 anni fa da ingegnere della provincia di Pesorobino aveva stilato questo progetto di collegamento. Intanto le chiedo che effetto fa? Veder rispolverare una carta che 40 anni fa evidentemente era già più che efficiente? Beh diciamo che il progetto finale è stato redatto nel 2003, l'ultima versione che è stata approvata poi dal Ministero dei Beni Ambientali e dei Beni Culturali e tutte le varie altre componenti della conferenza di servizi nel 2013. Quindi è un progetto anche abbastanza attuale, anche se chiaramente con l'aumento dei prezzi che ci sono stati negli ultimi anni il progetto va rivisto. Il progetto che adesso l'ANA si intende appaltare riguarda la messa in esercizio della galleria, dell'unica canna della galleria che è stata realizzata. È stata realizzata una galleria di 6 chilometri, chiaramente sono una ventina d'anni che la galleria è stata lasciata a se stessa e sicuramente ci saranno degli interventi anche edili da fare. Però l'appalto che è stato bandito riguarda la sicurezza, quindi tutti gli impianti di sicurezza, la ventilazione, l'illuminazione e tutto quello che serve per renderla apribile al traffico. Con alcune limitazioni che riguardano la funzionalità che è solo in una direzione, cioè direzione Marche Umbria, una sola corsia. I problemi secondo me più grossi sono quelli di accesso alla galleria, sia dal lato Umbro, che sono circa 10 chilometri di strada di montagna, che chiaramente dovrebbe essere adeguata perché è una stradina larga 4-5 metri, 6 metri al massimo, con molte curve, molti tornanti, molte difficoltà essendo una strada di montagna. Ma soprattutto dal lato marchigiano che ha un ingresso nel paese di Mercatello molto difficoltoso, molto complicato. Con l'aumento di traffico che si prevede, chiaramente i dubbi e le perplessità espresse dal sindaco di Mercatello non sono secondari, insomma, perché il paese già ha sofferto molto con tutti i lavori che ci sono stati nel corso degli anni, quindi cantieri, via vai di camion, di macchine, centinaia di operai che erano lì. È un paese che ha sofferto molto e che ha dato molto, quindi io penso che meriti una soluzione migliore di quella che è stata fatta. Da quello che so io il progetto è quello e dovrebbe rimanere quello, quindi ingresso dentro il paese di Mercatello con problematiche legate all'incremento di traffico. Adesso se poi si trovano altri fondi, come spero, per realizzare un bypass di Mercatello serve molto meglio.